ragazze oggi volevo farvi vedere i miei due completi preferiti in assoluto di fgm che metterei su sempre allora uno è questo guardate che colore sgaraggiante ma soprattutto dietro pazzesco e tra l'altro si abbina anche la mia borsettina mai messa invece il secondo questo invece è il secondo outfit che preferisco di fgm un po più aggressive per il colore ma sempre fighissimo poi c'è un altro che in realtà è a lavare e una cosa che dovete assolutamente sapere è che quando almeno come funziona prendo questi completini diciamo che diventa la motivazione in più per allenarmi perché mi vedo anche più figa e niente quindi lascio qua il link di fgm per andare a vedere tutti i loro completini compresi questi vai a vedere tutti i loro